Da Capaccio Pestum al Golfo di Policastro la tassa di soggiorno è confermata, tariffe relative al 2019 quindi invariate per non gravare sull'utente finale e per garantire i servizi di gestione e di controllo del territorio che altrimenti molti comuni, soprattutto i più piccoli, non potrebbero sostenere. A Pestum la tassa di soggiorno è stata istituita nel 2018, vi saranno agevolazioni per under 18 e over 70 con introiti investiti per garantire un accesso in spiaggia sicuro così come previsto dall'ordinanza regionale in materia di fruizione degli arenili liberi. Anche ad Agropoli confermata l'imposta di soggiorno a tariffe invariate per il periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre e anche quest'anno verrà messo a disposizione in maniera gratuita per tutte le strutture ricettive il software PayTourist in posta di soggiorno invariata anche a Castellabate dove gli introiti saranno per la maggior parte destinati alle attività di gestione e di controllo delle spiagge libere attraverso un piano che sarà operativo a breve, stalli in spiaggia per il distanziamento, prenotazioni online e in spiaggia, controlli con Stuart in spiaggia. Questi servizi hanno dei costi che prima non avevano e che copriranno con gli introiti della tassa di soggiorno dicono dal comune di Castellabate. Niente imposta invece a Montecorice nonostante l'ente avesse avviato nei mesi invernali l'iter di istituzione poi interrotto a causa del covid-19 così come nel vicino comune di Polli Cacciaroli dove la tassa di soggiorno non è stata mai istituita. Stesso discorso a Casalvelino, nessun gettone per soggiornare non ha ancora deciso come agire San Mauro Cilento che la tassa di soggiorno l'ha istituita nel 2019. Cartellonistica, stalli in spiaggia, piattaforma digitale per prenotare i pass e per accedere in spiaggia personale qualificato per i controlli. Saranno le spese che il comune di Ascea affronterà attraverso la tassa di soggiorno per l'estate 2020. Mentre a Pisciotta il comune ha deciso di non aumentare la tariffa passandola da 1 a 2 per il mese di agosto. A Camerota il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha confermato anche per l'estate 2020 l'istituzione dell'imposta. Si pagherà sempre a tariffe bloccate la tassa di soggiorno anche a Centola Palinuro, ha detto Stanziola. Fino alla fine di giugno resterà sospesa, partirà da luglio. Tutto invariato anche a San Giovanni e a Piro, anche se qui la tassa è praticamente simbolica visto che si paga solamente un gettone economico all'arrivo. Imposta da pagare anche a Ispani, Vibonati e a Santa Marina. A Sapri infine l'amministrazione Gentile sta valutando se sospenderla o meno.